C'è un'amica di una mia amica che ha letto un po' di cose su internet e si è lanciata e poco dopo ha avuto successo. Ah sì? E da dove si è lanciata? Dalla finestra? Ma per favore, il successo arriva col tempo e come dice la protagonista di oggi, è un gioco di squadra. Sigla! Lavoro da casa! Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterà le storie di altre donne che, come me, sono riuscita a creare la propria attività, conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire LAVORO DA CASA! Se penso a lei mi vengono in mente il rosa shocking e le bolle di tecnologia. No, non sono impazzita, sto parlando di Rossella Canevari, scrittrice, autrice televisiva, giornalista, una donna dalle mille risorse, che mi ha raccontato la sua storia fantastica e di come si è resa conto di essere diventata famosa. Ascoltiamola insieme dell'intervista di oggi. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di LAVORO DA CASA. Oggi ho qui con me, Rossella Canevari. Ciao, Rossella! Ciao, ciao a tutti, ciao Adra! Ciao, benvenuta, benvenuta, è veramente un piacere averti qui con noi, tu che sei una star del web. Magari, ancora no. Ancora no, ma secondo me lo sei. Però prima di partire io voglio farti dire a te direttamente che lavoro fai e di che cosa ti occupi nella vita. Allora, io sono innanzitutto giornalista, pubblicista, scritta all'albo, sono scrittrice di romanzi e autrice televisiva. Diciamo che utilizzo la scrittura, ho utilizzato nella mia vita la scrittura come mezzo in diversi campi e adesso sto usando moltissimo il video. Mi posso definire quindi giornalista, scrittrice, autrice e tech enthusiast. Ok, perfetto. Senti, tu la tua attività come scrittrice, come entusiasta della tecnologia e come giornalista e come autrice la svolgi da casa. Comunque anche adesso ti trovi, penso, a casa tua mentre stiamo svolgendo l'intervista. principalmente, allora, dipende nel senso che essendo freelance la posso gestire da dove mi pare, sia da casa che se faccio delle interviste posso uscire. Adesso, per esempio, sono tornata da dieci minuti a casa, è iniziata la settimana della moda, l'autunno-inverno del 2017, ho fatto l'apertura, la prima sfilata, che tra l'altro ho ripreso in live streaming, quindi ho fatto un po' di interviste, un po' di foto e un video. Comunque, principalmente, la svolgo da casa, in particolare i romanzi, cioè quando scrivo ho bisogno di silenzio, di solitudine, quindi direi casa. Perfetto, è sempre stato così, è sempre lavorato da casa o in passato hai lavorato anche come dipendente, comunque eri costretta, tra virgolette, costretta ad andare presso un luogo di lavoro prestabilito? Allora, ho iniziato, non i miei primissimi lavori come giornalista, ero sempre freelance, ho iniziato a lavorare ad Anna, che allora si chiamava Anna, adesso è A. In realtà ho lavorato in Mediaset, come autrice televisiva, per tanti anni, cinque anni, sei anni, e ovviamente andavo, cioè avevo un contratto, quindi come autore e andavo quasi tutti i giorni. Non avevo l'obbligo di presenza, ma anche perché, vabbè, Mediaset è con l'ognomonsese, che comunque raggiungere quei mezzi non è facilissimo, ai tempi non avevo la macchina, ero urbanissima. E sì, ho lavorato in ufficio, ovviamente, io scrivevo i testi, facevo le interviste, le montavo, per quanto riguarda il montaggio, ai tempi era necessario avere una sala di montaggio, oggi non è neanche così, nel senso che addirittura lo puoi fare tu da casa, dai tuoi computer. Ai tempi montavo là e usavamo la redazione, sì. E poi cosa è successo? Come sei passata dal dover andare tutti i giorni, o quasi, negli studi di Mediaset, a poter svolgere il tuo lavoro da casa? Ma io sono sempre stata una grande sostenitrice del lavoro freelance, della gestione del proprio tempo, in particolare noi donne, che abbiamo diciamo questo problemino storico della difficoltà di gestione della vita privata e della vita lavorativa è sempre stato così. Lavorare da casa, avere una flessibilità per noi è fondamentale. Io non ho figli, ma ho un fidanzato, spero di averli prima o poi, quindi fondamentalmente lavorare da casa è una risorsa, è fondamentale. E credo che comunque il sistema, il mercato, sia andando in quella direzione, piano piano. In America già esistono delle possibilità di flessibilità molto più ampie di quelle che abbiamo noi nel nostro mercato del lavoro, ma io sono sempre stata una sostenitrice di questo sistema. Tant'è vero che nel mio primo libro Voglio un mondo rosa shocking raccontavo, appunto era un po' un manifesto dell'essere freelance, il che non vuol dire precaria, ma flessibile. Certo, è autonoma, indipendente direi anche. Sì. Anche se a volte il mondo dei freelance, come è capitato di parlarne anche nelle scorse interviste, viene identificato come coloro che hanno una partita IVA, ma sono comunque sotto un dottore di lavoro. Quindi hai tutti gli svantaggi della partita IVA e gli svantaggi dell'essere dipendente, sostanzialmente, quindi meno un po' meno. Invece essere freelance oggigiorno, e spero anche in un futuro non tanto lontano, anzi sono convinta che sarà così, vuol dire essere indipendenti, riuscire ad avere una propria attività costruita anche da zero, volendo magari che arriva, come nel tuo caso, da un'attività pregressa o un'esperienza pregressa in cui magari hai sempre iniziato a lavorare con la partita IVA, poi piano piano ti stacchi da quelli che sono le tue commesse, diciamo così, e incominci a cercare in maniera indipendente i tuoi clienti e a lavorare, diciamo, secondo quelle che sono le tue regole, il tuo tempo e la tua modalità di gestione della tua attività e credo che per una donna anche per gli uomini perché poi so che tra di noi, tra i nostri ascoltatori ci sono anche tanti tanti uomini e insomma è un po' per tutti, è molto molto importante, per le donne ha maggior ragione perché sappiamo che ovviamente spesso sono le donne a stare dietro la casa, ai figli e spesso facciamo tante attività. le difficoltà anche sul mercato del lavoro sono maggiori rispetto ad un uomo perché gli stipendi non sono equiparati, esiste ancora diciamolo comunque un mercato del lavoro maschilista, è difficile per una donna avere dei ruoli di potere, quindi sicuramente il diventare imprenditore di te stesso è un'aspirazione ugualmente maschile e femminile, ma certamente purtroppo è un po' più difficile e un po' più aspirazionale per una donna se vuole gestire una famiglia, gestire insomma un rapporto, quella classica conciliazione della vita privata e della vita lavorativa che ci è un problemino che ci assilla direi dall'inizio dei tempi. Sì, sì, è vero. Tu come hai fatto a trovare il tuo punto di incontro tra vita professionale e vita familiare? Allora, tornando indietro cercando di dare degli step io ho iniziato appunto come dipendente, avevo dei contratti a progetto, dei terribili contratti a progetto perché in quanto io ho sempre fatto un lavoro creativo, la scrittura non è uno di quei lavori che diciamo vengono impi... Sì, a meno che tu non diventi giornalista professionista e lavori in un quotidiano in un giornale allora cambia ma io come autore eccetera sono quei lavori creativi che vengono gestiti in modo un po' più libero i contratti termine cioè ne ho vissute di varie ed eventuali. A un certo punto mi sono creata una buona rete di contatti ho iniziato ho iniziato ad avere una diciamo discreta condizione che mi ha permesso di pensare in quel momento quando avevo contatti un know-how perché comunque ero autore da vario tempo delle buone conoscenze e la necessità di gestire il mio tempo privato di viaggiare di fare altre cose ho deciso di appunto fare quel salto e diventare imprenditrice di me stessa. Questo risale al 2011 io ho lasciato appunto l'ultima ero in rai ai tempi facevo una trasmissione sempre come come autore freelance a contratto a tempo determinato ho deciso di creare una mia attività autonoma e devo dire che la mia più grande alleata in questa scelta è stata e stiamo parlando del 2011 quindi sette anni fa cosa che adesso da dire sembra banale se vuoi ma in realtà la mia più grande alleata nel 2011 è stata la tecnologia cioè io ho iniziato a lavorare ho creato un'associazione no profit a New York e da New York io ho lavorato con il comune di Milano con il ministero delle politiche agricole alimentari forestali cioè diciamo che riuscivo a gestire tutta questa una macchina complessa utilizzando la tecnologia potevo chiamare con Skype senza dei costi incredibili potevo gestire le mail insomma diciamo che sono riuscita a creare un'attività grazie alla tecnologia e l'ho avviata e da lì è iniziato è stato proprio il momento in cui ho fatto il salto sono diventata imprenditrice di me stessa cosa che al giorno d'oggi sentiamo dire molto no tutti coloro che amano la tecnologia sono tech addicted come me utilizzano i social utilizzano vedono una grande potenzialità oggi è molto chiara questa potenzialità ai tempi non lo era ancora era ancora un po' oscura la cosa infatti molti mi diciano ma come fai ma come puoi chiami dal New York pensavano che avessi dietro chissà quali fondi chissà quali investitori chissà in realtà è stato tutto un sistema che ho potuto sostenere grazie alla tecnologia quindi diciamo che hai vissuto anche tu quel essere vista un po' come un marziano perché lavoravi a distanza e le persone non capivano neanche che cosa stessi facendo e soprattutto come riuscissi a farlo almeno a me capita tuttora capita alle persone con cui mi confronto quotidianamente e che lavorano da casa come me vediamo visti veramente come degli extraterrestri e spesso e volentieri la reazione alle persone che ti domandano che lavoro fai tu gli rispondi lavoro da casa io faccio l'assistente virtuale qualcuno fa il suo lavoro è quella di un grande punto di domanda quasi come al in maniera intrinseca nella loro espressione c'è scritto ah lavori da casa quindi non fai niente sì ecco un po' come un tempo magari le donne non so facevano la collezione di gioielli o lavoravano adesso sembra lavoro no in realtà è molto impegnativo richiede una conoscenza approfondita di un sacco di cose cioè ci sono tante tante aspetti che vanno curati per riuscire a sopravvivere no perché non è facile niente però è anche eccitante è anche positivo e ti permette di gestire in libertà tante cose devi avere disciplina da un altro lato però noi donne secondo me siamo abbastanza brave in questo per carità anche gli uomini non voglio dire ma sicuramente noi no siamo abbastanza abbiamo questa parte razionale di gestione che che ci aiuta sì 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 assolutamente e poi c'è anche da dire che un po' con la maternità poi conosco anche tanti papà che caspita si danno tanto tanto da fare che accompagnano i figli a scuola che si occupano della casa anche dei fanno i casalinghi e i professionisti da casa proprio come noi donne no però questa questa nostra capacità questa nostra attività quotidiana in varie settori dal casalingo al professionale ci permette di allenarci costantemente quotidianamente proprio a essere efficaci e produttivi in tutti gli ambiti poi ti perfezioni insomma ti riorganizzi cerchi di trovare il tuo equilibrio le amiche che lavorano da casa hanno proprio delle vere e proprie società di vari vari campi non so dall'editing letterario cioè ci sono vari campi che no e loro si alzano la loro mattina inizia perché hanno figli inizia alle 5 gestiscono il lavoro dalle 5 alle 7 poi si sveglia il bambino lo portano a scuola poi si occupano della casa preparano il pranzo magari nel pomeriggio stanno col bambino e magari la sera lavorano veramente gestiscono delle vere e proprie aziende cioè si mantengono hanno dei dei ricavi importanti quindi ormai non è una cosa sottovalutabile ecco no assolutamente a volte le persone con cui parlo si stupiscono quando spiego che io faccio quando faccio formazione magari frequento un corso online a volte lo faccio mentre sto stirando sembra una cavolata però chi mi conosce bene tra l'altro sa che sono podcaster ma prima di esserlo sono sempre stata e sono tuttora amante dei podcast e li utilizzo come fonte di formazione e quindi sfrutto quelli che sono i tempi morti o che potrebbero sembrare tempi morti per farli facendoli proprio diventare tempi attivi molto attivi e concreti nella mia vita di tutti i giorni cioè posso girare il sugo e nel frattempo ascoltare formazione di marketing o a volte anche lavorare perché io lavorando anche per alcuni podcaster ovviamente l'ascolto del podcast diventa per me di per sé il lavoro e quindi lo faccio mentre giro il sugo questo è l'unico aspetto che mi concedo di multitasking è così guarda io stavo pensando ci ieri sono andata a accompagnare una mia parente in ospedale perché poverina aveva bisogno di un passaggio di un aiuto comunque mentre ero lì io sono andata ed ho ascoltato podcast di cose che mi serviva ascoltare siamo arrivati mentre attendevamo avevamo 15 persone davanti mi sono letta il libro che devo finire cioè non ci sono tempi morti la tecnologia in questo ti supporta e non è che avessi il libro di 300 pagine dietro oppure c'è tutto nel telefono esatto di contro però se da un lato è vero che non ci sono i tempi morti dall'altra parte per un attimino bilanciare la situazione è bene ogni tanto concederseli qualche tempo morto perché altrimenti vai in overbooking mentale e non va bene no io poi non avendo figli ancora sono grande sportiva questo weekend mi sono fatta tre giorni in montagna faccio yoga quindi diciamo che le ho le mie valvole di sfogo è importante avere le proprie valvole di sfogo svuotare la mente proprio dedicarsi a una parte della giornata per le proprie attività lavorative impegnare la mente fare delle pause nel mezzo ma anche dedicarsi proprio un tempo quotidiano per se stessi proprio per aiutarci a liberare la mente altrimenti poi tutta la nostra produttività va sfumando va a farsi friggere perché poi a un certo punto il nostro cervello ci dice vabbè sai che c'è adesso io vado in vacanza non ne posso più e quindi bisogna anche un attimino regolarsi anche questo fa parte dell'autodisciplina anche se potrebbe non sembrare ma è molto importante quindi darsi uno stop suddividere ogni aspetto della propria vita no tu non hai figli però io ne ho uno che ha tre anni e mezzo e quindi so che quando sono con lui io sono con lui quindi devo esatto esatto se sono con col mio compagno e stiamo facendo il discorso dobbiamo andare a farci una passeggiata ecco magari non mi ascolto il podcast no da un'orecchia e dall'altro ascolto cosa sta raccontando no certo no io parlo di tempi morti che normalmente venivano persi un trasporto da una zona all'altra piuttosto che nella nostra società i tempi morti sono assolutamente utili assolutamente io oltre al trasporto ti posso citare alcuni tempi morti che magari uno non ci pensa però sono importanti fare i mestieri la mattina il letto la fila alla posta vado al supermercato se non devi parlare con la commessa fondamentalmente puoi tirar giù il sacchetto del biscotto anche ascoltando qualcosa cosa certo sono tutti piccoli aspetti della quotidianità di ognuno di noi perché tutti andiamo a fare la spesa tutti ci capita di andare alla posta o di fare la fila da qualche parte e quindi possiamo sfruttarli anche facendo del bene a noi stessi e anche alla nostra attività perché poi io sono appassionata di podcast mi pare di capire anche tu però il podcast ce n'è di tutti i tipi non è che uno obbligato a ascoltare qualcosa relativo per forza la propria professione io per esempio ascolto una cosa che in Italia anche lì a partire dalla mia famiglia ai miei amici molti dei miei amici altri no io ascolto moltissimi podcast motivazionali sì mi piace sono principalmente americani quelli che io ascolto mi piace proprio avere delle chiavi di lettura della società sicuramente in alcuni casi anche new age perché comunque ha una mentalità che è molto vicina a determinate correnti new age filosoficamente parlando me le ascolto e mi aiutano perché ci sono dei momenti in cui poi le giornate in cui sei up c'è il sole è bellissimo fantastico tutto va bene poi la giornata in cui sei depressa è negativo eccetera eccetera ecco io in quelle giornate tendenzialmente ascolto questi podcast ci dici qualche nome dei podcast che ascolti di più che ti piacciono di più in questa materia ma guarda sto leggendo e ascoltando una donna un'americana che è stata una delle fondatrici ai tempi non so se ti ricordi il segreto no il segreto era quel libro che è uscito new age un po' di anni fa che raccontava un po' la legge d'attrazione sai tutte queste sì 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 ecco diciamo che è una delle fondatrici di questa di questa corrente new age che dice fondamentalmente che è tutto fatto di energia e ciò che tu desideri attrai quindi devi stare attento a come formulare i tuoi desideri i tuoi pensieri come essere come porti nei confronti proprio devi essere molto consapevole della vita che fai di quello che desideri di delle persone che hai attorno di ciò che muovi no e quindi ti aiuta ad essere a formulare pensieri per esempio in positivo non in negativo sì quando non so ti faccio un esempio stupido a volte dici questa cosa proprio non la voglio no non voglio questa giornata è negativa mi fa male la testa non voglio non ne posso più ecco è meglio formulare dei pensieri in positivo non ne posso più ho male la testa via non voglio sentirla non so sono sciocchezze in realtà ci possono essere delle puoi attrarre in negativo non so mi fa male la testa non la voglio adesso te la tagliano no però in realtà è meglio dire vorrei essere serena avere dei buoni pensieri e non avere più questo mal di testa sciocchezze di questo tipo sì che in realtà in un momento in cui magari sei un po' depressa o ti capitano una serie di avvenimenti negativi ti aiuta un po' a rifocalizzarti ma quello che ci dicevamo prima è importante durante la giornata magari ci sono ripeto dei momenti in cui sei estremamente operativa e dei momenti in cui non lo sei perché non si ha macchine siamo esseri e io in quei momenti utilizzo mi odgo dei libri credo che siano molto utili perché effettivamente io conosco Luisei come persona coach famosa che appunto ha qualcosa a che fare con questo tipo di visione effettivamente funzionano tutte queste affermazioni positive anche dire ok oggi ho un bruttissimo mal di testa adesso prendo la pastiglia e sicuramente mi passerà e buttarla via la parte negativa la diciamo la ribalti in positivo e la butti via sostanzialmente la parte negativa e questo ti aiuta ad affrontare la giornata in maniera diversa oppure una cosa che funziona molto è c'è questa cosa che devo fare devo fare questa cosa no voglio fare questa cosa e allora sembra una cavolata io so che magari chi ci sta ascoltando potrebbe dire ma cosa stanno dicendo però vi assicuro che si tratta di una misticona eccetera esatto provate provate perché funziona ve lo dico veramente come suggerimento da far diventare tesoro perché è veramente molto importante in qualsiasi ambito della vita perché è professionale ma anche personale quando tu esci dai binari prestabiliti perché noi nasciamo e abbiamo degli input devi crescere diventare una buona mamma avere dei figli sposarti lavorare qui fare là insomma no nasci con degli input nel momento in cui decidi fai quel quel salto io ti raccontavo appunto ho deciso di diventare imprenditrice di me stessa lo puoi raccontare poi in varie modi quando esci dagli schemi cambi la tua mentalità e in quel momento veramente ti si apre un universo poi lo possiamo chiamare new age ti può non piacere nel senso puoi chiamarlo puoi usare dei termini più tecnici ma in realtà vivi la tua vita in un modo completamente diverso e quindi le regole in qualche modo le devi fare tu è vero assolutamente io mi permetto anche di fare un paragone tipo da una vita da dipendente in cui è devo andare a lavorare con la vita del freelance della una vita che ti sei scelta tu con il voglio andare a lavorare anche se l'andare a lavorare consiste dal non lo so dalla camera da letto al soggiorno alla stanzetta apposita di vita d'ufficio quindi fa molta molta differenza perché appunto è una si attiva con un processo mentale magari un po' laborioso all'inizio ma non assolutamente impossibile da raggiungere e una volta raggiunto è tutto molto più easy e molto più sereno non dico che vivi poi in un mondo rosa ma è molto più facile vederlo di un colore diverso dal grigio esatto in realtà davvero io per tanti anni io avevo la mia famiglia che mi diceva ma ma tu ma che vita fai cioè viaggi un sacco ma dove li trovi come fai erano infastiditi dal mio modo perché io ero sono fondamentalmente felice cioè mi alzo la mattina e vado a fare le sfilate magari cioè ci sono momenti in cui qualcuno mi chiede scrivi per questa sfilata e te la faccio su commissione a volte no io stamattina l'ho fatto per periscope per me cioè non è che sono andata per documentare le sfilate mi sono divertita ho fatto una live ho avuto 5.000 persone che hanno condiviso la sfilata con me mi interessava e l'ho fatto ma io posso permettermi questa vita perché ho veramente cambiato il mio modo di di intendere e ripeto ho è andato in collisione in rotta di collisione con tutta la mia famiglia perché per loro se non sei un'impiegata e non hai una carriera e non hai un marito un figlio e figli eccetera per anni mi hanno guardato come una diversa la pecora nera no? diciamo questa è un po' matta fa l'artista prima o poi smetterà tanto noi non cioè prima o poi non avrai soldi in realtà io ho sempre avuto tutto ciò di cui avevo bisogno cioè veramente non sono miliardaria non mi interessa neanche esserlo ma tutto ciò di cui ho avuto bisogno nella vita per viaggiare per fare questa vita io l'ho avuto cioè non mi posso veramente lamentare sono una persona estremamente fortunata sì sì è interessante anche questo punto di vista degli altri quando dicono sì sì lasciamo glielo fare poi vedrai che a un certo punto si renderà conto e invece quelli che poi si rendono conto sono gli altri sì sì è vero dice cavoli perché veramente ho viaggiato tanto tantissimo sono stata in giro eccetera e più una persona mi dice cavolo a me piacerebbe adesso sto diventando vecchia no non posso più farlo ma non è vero in realtà non è mai vero cioè tu puoi veramente fare quello che desideri fare e ti fa bene sì ci sono degli ostacoli che tu ti poni e quando ti poni gli ostacoli stai sereno che gli ostacoli ci sono perché te li sei inventati tu te li sei creati tu nel momento in cui guarda è stupido sembra sembra un ragionamento stupido new age ma non lo è è veramente una legge che se tu applichi nella tua vita funziona sono le cosiddette convinzioni limitanti che ognuno di noi si costruisce e sono quelle che poi veramente ti mettono i paletti davanti e non ti fanno raggiungere l'obiettivo cioè Robert Dils che ne ha scritto un libro proprio convinzioni e quindi è importante riuscire a smantellarle così da poter arrivare prima e meglio dove si vuole arrivare e tra l'altro tutto questo che ci siamo detto è vorrei fosse di una motivazione per coloro che pensano ma io non ci riuscirò mai no non è vero perché se tu vuoi veramente diventare la professionista X cambiare la tua vita in maniera Y se è quello che davvero vuoi nella vita si può fare si può fare non non io credo non ci sia limiti cioè dicevo è ovvio che devi crederci e che non è facile cioè non è che all'improvviso dici io domani voglio andare a vivere a New York mollare qua mi fa schifo e trovare un lavoro da un milione di dollari allora sicuramente è un bello obiettivo poniti in quella in quella situazione e può capitare no però non è che accade così cioè se no se no sarebbe troppo bello è troppo facile ma no non è facile però non è neanche impossibile ecco non se invece ci poniamo tanto io non ce la farò mai ecco sicuro che non ce la farei mai senti Rossella parliamo della tua situazione ad oggi come professionista tu oggi hai successo nella tua carriera nella tua vita sei conosciuta comunque hai scritto cinque libri giusto? sei il quinto ok e mi ha colpito una cosa che tu hai detto durante un'intervista super iscritto di Marcia Tomasin che è stata quando un giorno il tuo editore ti ha chiamato e ti ha detto vai davanti a una qualsiasi vetrina della 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 libreria e aspetta e quando hanno tirato su le saracinesche tu hai visto le vetrine piene dei tuoi libri e lì ti sei resa conto dell'impatto della tua popolarità come l'hai vissuta volevo chiederti come l'hai vissuta e come poi hai impattato nella tua vita professionale e di conseguenza anche personale sì hai ragione nel senso che lì è proprio stato il momento in cui io mi sono resa conto che ero visibile cioè che è cambiato qualcosa perché erano le mondadori e le feltrinelli di tutta Italia e io ero davanti a una feltrinelli quella qua a Milano in piazza Piemonte non sapevo cosa volesse dire ci ho pensato si apre la serranda entra e vedrai il tuo libro no non mi immaginavo la vetrina rosa shocking e l'hanno vista tutti perché io ho avuto un sacco di gente che mi mandava le foto mi mandava le cose ma devo dire che mi sono emozionata tantissimo io non ho ancora avuto un figlio ma immagino che sia un adesso non voglio dire una cosa assurda però veramente mi sono emozionata pianto in quel momento perché ho visto questa cosa e ho pensato wow sta capitando a me e da lì è iniziato un periodo infatti incredibile facevo interviste poi mi hanno comprato i diritti per il film eccetera eccetera è stato proprio un bel un bel momento ti rendi conto che è una cosa molto bella la popolarità ha una doppia faccia secondo me c'è dentro molto ego devi stare attento e devi riuscire a capirlo lo sei ma puoi cadere ci sono ci sono è molto complicato secondo me gestire delle situazioni di fama non che ripeto la mia niente di che non è che io sia sa Dio cosa però capisco che cioè per esempio in quel periodo ho avuto molti conflitti interni cioè entri in delle dinamiche che sono diverse entri nelle dinamiche economiche di visibilità vedi le cose in un altro modo in un certo qual modo lo auguro a tutti perché è molto bello da vivere in un altro è molto legato all'ego e all'apparenza è una cosa molto tipica della nostra società voglio successo voglio soldi è ingannevole bisogna riuscire a coglierne ecco anche la parte negativa e rimanere ancorati secondo me penso non non sia una cosa a cui comunque in nessun modo arrivi preparato quindi devi un attimino riuscire a a calibrarti e a rimanere salda con i piedi per terra in ogni caso perché comunque come hai detto tu la popolarità è successo la visibilità c'è ma in un attimo ti può essere tolta e quindi lì devi esserne comunque consapevole e non non crollare perché sennò è finita quindi entri entri in dei tunnel entri in dei tunnel poi è difficile credere in te stesso continuare a crederci cerchi sempre quell'attimo no cioè inizi ad entrare nella mentalità in cui dici devo ritrovare quel momento quell'attimo che non torna mai più perché la prima volta tra l'altro è unica no comunque se io domani dovessi scrivere il best seller mondiale non sarebbe mai come vedere quella saracinesca che si alza non sarebbe la stessa cosa io lì avevo una purezza che non ho più cioè adesso ho delle conoscenze vedo determinati meccanismi che prima non vedevo per esempio ho imparato che il successo non è una cosa personale non è una cosa individuale è un gioco di squadra tu da sola non vai da nessuna parte anche se hai il talento di scrivere il libro della tua vita il best seller della tua vita o di fare non lo so sei la youtuber più brava ma se tu non hai gente che ti sostiene e che vuole il tuo successo tu non arriverai mai cioè è proprio un gioco di squadra certo e tu questo l'hai creato l'hai detto anche in altre interviste grazie alla tua community allora no il successo è arrivato tramite il primo libro e grazie al mio editore il mio editore ha imposto una proprio una storia che poteva essere perfetta da lanciare parlavo di donne parlavo di problemi femminili era accattivante lui ha trovato il titolo accattivante perché io quello non l'avrei mai scelto come titolo invece in realtà ha funzionato benissimo ha lavorato cioè con la casa editrice ha investito denaro parecchio adesso lo so vedi sono meccanismi che tu di cui non ti rendi conto inizialmente capitano e tu osservi e sei affascinato da tutto questo adesso io so come funziona so che ci vuole un investimento economico ci vuole una squadra eccetera eccetera ultima che è una cosa diversa la tua community senso col tempo io ho creato questa mia community di che mi supporta legata specificamente a un social quindi a Periscope al live streaming di Twitter o anche una community legata ai miei libri ad altre cose ma quella è la community più forte che ho ecco e lì per la promozione di te stessa continuare proprio con le tue gambe la community è fondamentale spieghiamo a chi ci segue che magari non ha ben compreso che cos'è il in due parole se riesce a dirlo il live streaming e che cosa significa avere una community allora il live streaming è una sono dei video in diretta un tempo cioè come su YouTube eccetera tu giri i video li monti e li li uploadi su un sito su YouTube adesso dal 2015 è arrivata diciamo il primo veramente il boom di tutta questa cosa prima ancora di Facebook Live perché ormai Facebook è un colosso ma prima è arrivato Periscope creato da questo americano che si chiama Cave on Badpour di San Francisco che ha creato cioè tu puoi andare semplicemente con il tuo telefonino mi parla il mio computer col tuo telefonino hai scarichi l'app clicchi e vai in diretta metti un titolo con degli hashtag e vai in diretta e la gente entra chiunque abbia l'applicazione ovviamente certo l'ha acquistata Twitter quindi è diventata di Twitter e tu puoi mostrare il mondo attraverso i tuoi occhi a chi vuoi a livello professionale a livello di intrattenimento qualsiasi cosa stai facendo un viaggio il Duomo di Milano qualsiasi cosa io ho iniziato a utilizzare questo social sono stata tra le prime in Italia siamo in pochi ancora purtroppo non ha funzionato molto però ci sono dei buoni Periscope italiani e piano piano ho creato una community che è sostanzialmente costituita da anglosassoni americani perché tra l'altro io sono laureata in arte contemporanea e quindi e viaggiando parecchio e anche in Italia mi diletto a mostrare quello che vedo io io vado spessissimo a vedere i monumenti non so io passo in qualsiasi città dove vado vado a vedere il Duomo la Pinacoteca le mostre è una cosa che faccio da sempre cioè mi è sempre piaciuta e ho iniziato a condividerlo e questa condivisione ha creato una community di gente che viene a vedere le mie live quindi questo è il live streaming e grazie a questa community io l'anno scorso ho pensato di poter fare un altro salto dopo il salto di diventare imprenditrice di me stessa nel lavoro ho pensato di poterlo fare anche nella letteratura e di lasciare il mio editore e di autopubblicare il mio libro questo ho fatto bene Rossella quale consiglio ti senti di dare a chi volesse intraprendere una professione indipendente anche grazie all'utilizzo della tecnologia ma una sintesi delle cose che ho detto prima cioè fondamentalmente secondo me è un passo molto bello e molto importante è fondamentale avere chiarezza quando lo fai quindi essere consapevole che stai cambiando il tuo cammino in tutti i sensi cioè non stiamo parlando solo di lavoro stiamo parlando anche di proprio di una trasformazione individuale è importante capire che ci vuole un investimento un investimento di tempo un investimento economico cioè non è una cosa che tu domani schiocchi le dita e diventi imprenditore di te stesso e hai un fatturato mostruoso ecco ci vuole del tempo della fatica per crearsi proprio la situazione ideale e non ultimo appunto anzi un consiglio appunto che che viene dalla mia esperienza nessuno riesce a farcela da solo è fondamentale che ci sia una squadra che creda in te non mi riferisco solamente ripeto ai numeri dei social che sono fondamentali creare una tua community è importantissimo senza la community sui social non vai da nessuna parte ovviamente a meno che tu non vada tutti i giorni su Rai 1 Rai 2 su CNN allora è un'altra cosa ma se sei uno come noi quindi uno uno di noi normale hai bisogno della tua community ma oltre alla community virtuale hai bisogno proprio di un team di persone che ti aiutino a iniziare dal tuo compagno dalla tua compagna che crede in te ti sostenga spiritualmente a un editore se vuoi pubblicare a non lo so ci deve essere un team perché da solo non ce la puoi fare certo un consulente mi viene da dire magari in maniera un po' più ampia assolutamente perché abbraccia diversi settori voglio dire quindi è fondamentale utilizzare gli esperti nei vari settori utilizziamoli cioè non siamo dei tuttologi quindi non puoi fare cioè se tu sei un creativo marketing magari lo sai fare un po' meno finanza ancora niente ecco è importante avere proprio un circolo di addetti ai lavori di professionisti che ti supportino e lì c'è una iniziale parte di investimento qualsiasi sia l'attività è importante essere formato assolutamente ecco un'ultima cosa gli improvvisati cioè quelli che dicono non so ah ho fatto questa boom la fortuna mi è caduta addosso e sono famosa non so come non è non è reale cioè tutto ciò la fama arriva attraverso la fama il successo quello che cerchi diciamo arrivare a un punto positivo della tua vita arriva con consapevolezza lavoro professionisti che ti aiutano investimento quindi è un tanti pezzettini del puzzle devono andare al loro posto grazie Rossella come ti troviamo quindi sul sul web allora sono Rossella Canevari su facebook instagram quasi tutti i social orsellacanevari.com e su periscope roscaneva che è il mio handle di twitter perfetto vi metterò poi ovviamente tutti nelle note dell'episodio e anche il link a tutti i libri che Rossella ha scritto grazie li troverete soprattutto questo voglio vivere in un mondo rosa shocking ecco perdonami l'emozione che tradisce che sicuramente può essere un punto di partenza dove trovare degli spunti per noi donne ma anche per qualche purtroppo sono passati sette anni credo da quando è uscito quel libro ed è drammaticamente tremendamente attuale quindi può dire che purtroppo le cose di cui parlavo i problemi legati appunto a conciliare il lavoro la vita privata non è cambiato purtroppo molto no ma si possono trovare tanti spunti per dare il là a un cambiamento reale perfetto Rossella io ti ringrazio tantissimo per essere stata mia ospite ti ringrazio e spero di risentirci presto perché veramente avrei voluto farti un milione di domande no semilla a te in bocca al lupo per i tuoi pop non so tu ma immaginando Rossella davanti a quella libreria a vedere all'improvviso le vetrine piene del suo libro mi viene un'emozione fortissima credo che sia una cosa stupenda ma come ci ha detto anche lei bisogna stare attenti e imparare a gestire la popolarità e tu cosa faresti se diventassi famosa parliamone via mail puoi raccontarmelo a ciao chiocciola audrabertolone punto it e se il tuo sogno è diventare imprenditrice di te stessa come Rossella puoi contare su di me ringrazio Emanuela Michelon Ino di Domenico ed Emanuela Vecchi che mi seguono su Spreaker e ti ricordo di passare su iTunes a lasciare la tua recensione noi ci sentiamo il prossimo weekend con una nuova puntata grazie mille e ricorda fa quello che ami ama quello che fai ciao e a presto lavoro da casa quando lo dico alle persone molte pensano che il mio non sia un lavoro serio ma solo un hobby invece da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi bilanciando famiglia e lavoro questo podcast ascolterà le storie di altre donne che come me sono riuscita a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare e prendendo un espunto anche tu sarai felice di poter dire lavoro da casa di poter dire 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 Grazie a tutti